In quel tempo Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono. Giunto il sabato si mise a insegnare nella sinagoga e molti, ascoltando, rimanevano stupiti e dicevano, da dove gli vengono queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi, come quelli compiuti dalle sue mani? Non è costù il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non stanno qui da noi? Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro, un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua, e lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì, e si meravigliava della loro incredulità. Gesù percorreva i villaggi d'intorno, insegnando. Parola del Signore. Il Beato Giovannello da Cortone è un terziario vissuto nei secoli XIII e XIV. Nel martirio loggio di padre Arturo Monsier del monastero di Rotomangensi viene ricordato con queste parole Cortone, Ioannelli, terziare confessoris, mentre negli annali francescani si rammenta con lode il Beato Giovannello che fiorì in Cortona nell'anno 1297. Eppure ricordato nel testo di Lorenzo Cantini, nel suo libro, L'Etruria Santa, cioè le vite dei santi beati toscani, non sappiamo nulla sulla sua biografia e nemmeno sulla sua data di morte. L'unica testimonianza rimasta dopo la sua morte è la rivelazione a Santa Margherita da Cortona, come la sua anima godeva dei beni incomprensibili del paradiso. Nei testi francescani la memoria e il ricordo per il Beato Giovannello da Cortona era fissato nel giorno del primo di febbraio. Ecco carissimi fratelli, questo è il santo olpeato, naturalmente di oggi, primo di febbraio, il Beato Giovannello da Cortona, che dopo la sua morte si rivela a un'altra grande mistica, la Margherita da Cortona, che noi sappiamo benissimo tutte le sue vicende, posseduta dal demonio, poi anima mistica, insomma tante belle cose che sono successe a lei e che comunque vi invito a cercare documenti sulla sua vita perché veramente merita di essere studiata. Ma noi oggi ci occupiamo di lui, di Giovannello da Cortona, questa anima santa che morirà e dirà a Santa Margherita da Cortona io qui in paradiso sto godendo dei beni incomprensibili. Ecco questo è il messaggio che ci viene dato oggi e per quanto noi si fatichi a vivere in questa vita nel miglior modo possibile e si cerchi almeno di poter essere così, non felici, almeno sereni. La testimonianza del Beato Giovannello oggi ci dice attenzione, qualunque cosa tu possa vivere su questa terra di bello, molto bello e anche gioioso nel paradiso ci sono dei beni incomprensibili. Ecco questo si rifà a quella parte di Atti degli Apostoli dove appunto dice il San Paolo quello che l'orecchio non ha udito e l'occhio non ha visto questo è preparato per gli uomini, questo Dio è preparato per gli uomini. Ecco questa è un po' la testimonianza che oggi ci viene data da questo personaggio che probabilmente oramai non si ricorda quasi più nessuno però è qui a dirci attenzione, i beni del paradiso ci sono ed è come se ci sono quindi non perdiamoci d'animo e cerchiamo di capire che qui siamo solo di passaggio e il Beato Giovannello veramente ci indica la via, quindi vivere santamente per poi godere santamente di tutti quei beni che ci sono promessi nella vita eterna se naturalmente ci comporteremo bene. Siamo arrivati al nuovo mese, il mese di febbraio, un mese dello Spirito Santo e siamo qui a confrontarci su questo mese che in qualche maniera dovrebbe essere un mese particolare il mese dello Spirito Santo in cui noi entriamo direttamente in quella consapevolezza che senza lo Spirito Santo difficilmente possiamo ricorrere a quelle che sono le tappe fondamentali del percorso umano quindi di conseguenza anche senza l'aiuto dello Spirito Santo la nostra anima non va avanti possiamo chiedere aiuto a Maria, possiamo chiedere aiuto a San Giuseppe possiamo chiedere aiuto all'angelo custode ma senza il dono dello Spirito non si va avanti ed è per questo che noi cattolici quindi battezzati abbiamo questo dovere in cui lo Spirito Santo deve entrare in noi e entra in noi appunto laddove esiste una possibilità dove c'è la purezza, dove c'è la purezza del cuore, la purezza dell'anima, la purezza della confessione ma tutto questo avviene laddove comunque in ogni caso noi cerchiamo di essere persone che fanno in modo che lo Spirito Santo possa avere la possibilità di entrare in questo Tempio ovvero nel nostro corpo e nella nostra anima ma solo e esclusivamente se noi glielo permettiamo altrimenti ci sono dei problemi e questo causa anche una serie di mancate relazioni proprio con Dio e con tutto quello che ne concerne quindi se noi non ci predisponiamo a quelle che sono le volontà dello Spirito di abitare in noi come noi rigettiamo lo Spirito nello stesso modo rigetteremo il nostro angelo custode, rigetteremo Maria Santissima e rigetteremo tutto quello che è la nostra relazione col cielo poi è vero si può pregare, si può fare, si può dire ma nello stesso tempo quando tu vivi o convivi con il peccato è naturale che non puoi dare allo Spirito la possibilità di entrare nella tua dimensione o lui o non entrare nella sua ecco quindi però è proprio questo poi è naturale esistono vari tipi di peccato quindi non è da dire che se io pecco mi privo totalmente dello Spirito bisogna vedere anche i tipi di peccato che si compiono molte volte ci sono peccati come diceva Padre Pio dettati dalla stanchezza non riusciamo a reagire al maligno e il maligno ci sovrasta e noi cadiamo cadiamo un'altra volta fino a che non c'è la grazia santificante che ci fa ritornare su quindi di conseguenza noi dobbiamo in qualche maniera combattere il peccato ma a volte non essendoci la grazia il peccato ci sovrasta diversamente invece quando noi siamo come dire in base del peccato perché in qualche maniera come dire ci conviviamo e allora questa è una cosa completamente diversa quindi di conseguenza dobbiamo noi entrare in una dimensione o si hanno le forze e si combatte o non si hanno le forze e si chiede l'aiuto della grazia e poi in qualche maniera arriva quindi di conseguenza anche il Vangelo di oggi che ci apre a quella che è la consapevolezza di febbraio è proprio questo Gesù percorreva i villaggi di intorno insegnando praticamente la chiusa finale di questa parte evangelica ci fa capire che la gente non capiva molto quello che stessa succedendo quindi anche quando vedevano questi prodigi diceva ma quello lì non era mica parente di quello figlio di quell'altro, cugino del terzo, del quarto ecco il problema era capire ma come fa uno ad avere questi doni ecco quindi di conseguenza come dire la volontà che si pone proprio in questo periodo che è il mese di febbraio è proprio questo essere disprezzati perché poi alla fin fine chi vive in Dio sarà disprezzato non solo nella sua patria ma anche in altre circostanze ma qui lo dice giusto no? un profeta non è disprezzato se non nella sua patria tra i suoi parenti e in casa sua in realtà noi sappiamo che chi vive veramente Dio è disprezzato un po' dappertutto soprattutto anche nei luoghi dove ci dovrebbe essere Dio quindi a molti dà molto fastidio il fatto che uno sia veramente in Dio cioè lo vedi per alcuni come dire diventa una sorta di peso colui che magari ti parla del Signore o si comporta bene ecco gli altri devono vedere sempre la cosa più negativa e questo ci svilisce un po' quello che è la nostra situazione ma quello può valere per un profeta ma vale anche per noi anche i nostri parenti molte volte non sopportano che noi siamo in Dio e va bene così quindi di conseguenza il mese di febbraio si apre con la consapevolezza che alla fin fine come diceva Gesù in un'altra parte di Vangelo chiuditi nella tua stanza prega al Padre tuo in quel momento sei in relazione col Padre tuo perché poi come vediamo anche adesso non è detto che delle persone che si ritrovino a pregare insieme siano uniti come i cenacoli di un tempo assolutamente mi è capitato di frequentare gruppi di preghiera dove si pregava perché si prega da 35 anni chi si è visto si è visto come stai, come non stai muori, vivi stai bene, stai male non gli fregava niente nessuno ecco questo è un po' anche il disprezzo si vive tutti per Dio come vivevano per Dio anche loro però alla fin fine se qualcuno ha un qualche cosa non viene apprezzato quindi fa parte un po' anche di quella che è la realtà umana la potenza dell'Evangelo è questa essere sempre, come dire, attuale anche se ha duemila anni l'unica cosa che vi posso augurare è che questo mese di febbraio il mese dello Spirito Santo possa essere per voi un mese di purificazione fare in modo che veramente lo Spirito sia il vostro il vostro maestro che voi siate appunto anche Tempio della sua presenza salutato Gesù Cristo grazie a tutti Grazie a tutti.